Questa è una frana che si è innescata nel 2020, mi pare marzo 2020 e che noi abbiamo costantemente monitorato perché ha interrotto la viabilità della strada provinciale con il collegamento della strada aria 18. Era stata ed erano iniziati finalmente i lavori della viabilità alternativa sulla via Pirandello che è quella strada che corre a margine di quelle case. Solo che c'è stata questa evoluzione e la strada ha avuto un collasso insieme a questo cuneo di materiale che noi avevamo fortunatamente previsto vantieri e quindi avevamo allertato i signori qui proprietari a fargli un po' sgomberare la roba e a mettere in sicurezza soprattutto alle persone oltre che le cose. Purtroppo l'evoluzione è ancora in essere perché come potete vedere quei muri la dicono lunga sul fatto che ci sarà un'ulteriore retrogressione del fenomeno con volumi di mobilitazione ancora maggiori. Noi siamo qui a monitorare insieme alla protezione civile e vigili del fuoco costantemente H24 perché se ci devono essere delle evidenze e delle evidenze noi siamo pronti a far evacuare cautelativamente l'area. Abbiamo fatto evacuare ieri quella casa lì perché quella prossima al margine lo vedete quel taglio nero lì, il taglio di distacco. Da quel momento in poi quella casa c'era solo una persona anziana che è stata ricoverata presso un familiare e questa struttura qua, che è questa struttura economica, questa azienda, abbiamo fatto eliminare tutti i materiali di questo piazzale che altrimenti andrebbe perso. Ora siamo nelle condizioni di poter monitorare e eventualmente fare questo tipo di attività. Devo dire che noi è due anni che cerchiamo di lottare insieme alla popolazione, al sindaco, alla protezione civile con la regione perché la competenza della strada provinciale e della provincia con delega alla regione. La regione abbiamo fatto venire più volte il prefetto, l'ingegnere capo della protezione civile, l'ingegnere Nisticò che ci aveva detto che avrebbero erogato i fondi, avrebbero messo mano ai lavori. Sono passati due anni ancora nel successo, è successo solo che l'aggravio di questa evoluzione della frana fa sì che quello che poteva essere un progetto di viadotto molto veloce, molto semplice, non si può più fare, per cui adesso anche in termini economici c'è un aggravio di 10 volte tanto quello che poteva essere la risoluzione.